So che Mario non la pensa così Mario prende il cuscino, pensa Però ragazzi miei, io vi voglio bene Ma Erling Haaland, no? Quanti gol tu ricordi di un attaccante così, Vivio? Sincero? Mario? No, io non ti voglio rispondere Non mi vuoi rispondere, vabbè Perché voi partite con la cosa in testa Che Messi deve vincere il pallone d'oro Per tutto quello che ha fatto in carri... Finito? Finito? Al bagno Finito? La disperazione Ragazzi, se vincerà Messi Complimenti a Messi Non è che sto dicendo che non lo merita Comunque sia non lo meriterebbe Però ragazzi miei, perdonatemi Erling Haaland, ma se non lo vince quest'anno Ma quando c***o doveva vincere Questo pallone d'oro